Ciao ragazzi, come state? Come sapete YouTube apprezza molto la continuità e la costanza ed è per questo che da quando ho aperto il canale ogni settimana, ogni fine settimana, puntualissima pubblicavo il mio contenuto video. A seguito dell'emergenza coronavirus ho preferito e poi sono stata anche successivamente costretta a metterci in sicurezza e quindi a non poter più portare qui in casa la nostra troupe. Detto questo, volevo solo informarvi che ci sono ancora, che sono su Instagram, mi sono solo spostata di social e lì insomma condivido quotidianamente storie, nelle storie e nelle GTV contenuti molto interessanti che possono essere sia le letture proprio per i vostri bambini e sia anche le recensioni, quelle insomma che ci piacciono tanto. Inoltre per questa quarantena sto proponendo anche dei laboratori per i vostri bambini, quindi vi aspetto lì su Instagram, basta scrivere piccole ali, cercate il loghino. Un bacio, ciao ragazzi!